Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del film Girasoli di Catrinelle Marlon, che abbiamo il piacere di accogliere qui, insieme all'attrice protagonista Gaia Girace e insieme a Samantha Antoni Cola di Rai Cinema. Benvenute. Allora, Catrinelle, il film Girasoli è stato selezionato alla 41esima edizione del Torino Film Festival nella sezione fuori concorso la prima volta. È una prima mondiale e il film è prodotto da Massimiliano Di Lodovico per Masi Film con Rai Cinema e con Lumina MGR Produzioni di Monica Guerritore e Roberto Zaccaria. È una coproduzione internazionale con la società di produzione rumena di Tudor Reus, spero pronunciarlo bene, e con la Gap Buster, società belga di Isabella Orsini e Giuseppe Ruschop. Il film ha avuto il sostegno anche della Regione Lazio e è distribuito da Europictures. No, sbagliato? Non c'è più? No, sarà distribuito da Notorious. Qui lei oggi quindi è in veste di madrina del festival, non di attrice ma di regista al suo debutto e oltre ad essere tra l'altro anche sceneggiatrice del film, su questo poi magari torniamo dopo. Volevo sapere se è un esordio a cui pensava da tempo o se è questa storia che l'ha portata piano piano a decidere di cimentarsi sia con la regia che con la sceneggiatura. Allora, buongiorno. Diciamo che la pandemia ha suscitato in noi, non so chi si è buttato sulla cucina, chi si è buttato nello studio, sotto altre forme. E io durante la pandemia, più che altro durante il lockdown, ho pensato a dedicarmi a una nuova strada. E dico una nuova strada perché il lavoro che stavo svolgendo tra la moda e fare l'attrice mi portava sempre a viaggiare tantissimo. E mi trovavo comunque una condizione familiare dove avevo anche paura per quello che sarebbe successo un domani, non sapevo neanche come si sarebbe uscito da quel contesto di forse sarà la fine del mondo. Viviamo così in Italia, quel periodo lì, poi dipende anche accanto a chi lo vivi, no? Quanto ipocondriaca la persona accanto a te. E a quel punto avevo deciso di trovare un nuovo lavoro e dedicarmi a qualcosa che mi portava ad essere vicino alla mia famiglia perché avevo capito in quel momento che era la cosa più importante per me. E allora mi sono messa, cioè ho riflettuto sul fatto di rimanere sempre in un ambito artistico e a quel punto avendo anche il mio compagno che fa il produttore ci siamo guardati e ho detto io mi metto a studiare regia. Ma non avevo mai pensato a diventare una regista di cinema, sì di cinema, ma col mio pensiero andava sempre verso la moda perché era un ambito in cui ho lavorato per più di vent'anni e sono una persona molto creativa e quello era il mio sogno in quel momento. Perciò ho iniziato a fare diversi corsi online, poi uscite dalla pandemia ho iniziato ad andare anche sul set, a affiancare altri registi e a fare la mia la mia, non gaveta, ma il mio percorso di studio. È successo che mangiando poi ti viene la voglia di mangiare ancora di più e ho trovato anche la soddisfazione e curiosità in quel nuovo tipo di lavoro e dalla pubblicità ho detto vabbè ma mi butto anche su una forma un po' più grande che può essere un cortometraggio. E a quel punto proprio perché non vengo dalle scuole ma da un'esperienza e comunque sto ancora studiando ho deciso di concentrarmi su un tema di questo cortometraggio che era un tema vincente perché ho detto ok almeno propongo una cosa che io lo so molto bene. E ho scritto, avevo l'idea di fare il film sulla malattia mentale sul cortometraggio. Poi vi racconterò perché. E la storia era troppo bella per essere, mi spiace dire buttata lì ma sappiamo che i cortometraggio hanno una vita molto breve. E ho voluto, ho detto no non voglio usare questo tema, lo userò su un lungometraggio. Vedi che mio compagno all'epoca mi ha detto ma sei sicura? Ma stiamo parlando di fare un corto, tu stai già pensando a un lungometraggio? E ho detto un giorno e perché secondo me ci sono tantissimi temi che girano intorno alla malattia mentale che è un peccato non raccontarli in un film lungo e buttarli su un corto, no? Che col corto hai poca vita, fai pochi festival, non vanno al cinema, hai un pubblico ridotto diciamo. E senza farla lunga, ci avrei tantissime cose da raccontarvi, Girasoli è la sintesi di due esperienze molto forti della mia vita che mi hanno insegnato ma che mi hanno anche segnato. E queste sono la mia permanenza diciamo in questo posto che si chiamava settimanale. C'è una persona della Romania qua dentro, prima che ho salutato, che sa benissimo cosa vuol dire settimanale, è una specie, non dico di orfanotrofia perché io i genitori ce li avevo all'epoca e la parola è un po' inesatta. Però settimanale era un posto dove tu lasciavi il tuo bambino perché non avevi le condizioni di crescerlo. Però i genitori esistevano e io purtroppo ho avuto questa esperienza, ho vissuto questa esperienza per i primi miei tre anni di vita. L'altra esperienza che mi ha segnato è quella di vivere il manicomio rumeno, l'ospedale psichiatrico in Romania e vivere mia zia là dentro perché lei purtroppo per un problema di emozione forte col disagio della morte di suo papà che era mio nonno, avevo sette anni, è impazzita. Così da un giorno all'altro con tutto il supporto che aveva da parte della famiglia lei non ha più ha avuto il controllo alla testa, perciò ha vissuto parte della sua vita in questo posto terribile che esiste ancora oggi dove non si fanno ovviamente quello che si faceva da voi in manicomio tipo l'elettroshock ai genitari ai bambini perché facevano la pipì a letto o cose che magari non vorrei ricordare adesso ma sappiamo benissimo quello che stava succedendo negli anni, fino nel 78, anzi forse fino negli anni 70. Ma è ancora aperto questo posto? Allora c'è una legge in Romania, c'è una legge che dice che puoi portare, anzi non puoi portare il tuo malato, la famiglia non ha il diritto di chiudere questa persona come facevano qui in quegli anni là quando il marito chiudeva la moglie, però purtroppo la persona deve commettere un reato, attraverso il reato viene arrestato dalla polizia e poi portato dentro al manicomio. La legge del manicomio, che lo chiamo manicomio, questo ospedale psichiatrico in Romania prevede una permanenza di tre mesi dentro e in questi tre mesi i dottori stanno provando di fare diverse cure, non voglio entrare in nessun dettaglio, in nessun mio pensiero su queste strutture e praticamente il tuo familiare esce con, esce un vegetale da quel posto là, devono liberare il posto letto perché c'è una richiesta molto importante di questi posti qua, però finisce che il malato esce fuori, magari non prende le pillole o per altri problemi, ci ricasca sempre, c'è sempre un via vai con questi posti, più o meno sono sempre le stesse persone che girano là dentro. E io quel posto l'ho vissuto per tantissimi anni, un po' anche per il fatto che, non so perché, ma sono stata l'unica della mia famiglia accettata da mia zia ed ero l'unica che non era giudicata. Tendeva a giudicare sua sorella, tendeva a giudicare la madre, che non si comportava bene col marito, non lo so, nella sua testa c'erano tanti problemi che soltanto lei si li poneva, ecco. E a quel punto andavo io volentieri a trovarlo e ho provato anche a trovare una formula di vedere quel posto, non soltanto un posto da disagio e anche io entrare in quella cosa emotiva di sentirmi male, no? Per quello che stavano soffrendo là, ma di vedere il lato buono di quel posto. Il lato buono era quello di ascoltare le storie dei malati, quello di guardarli, quello di portarli magari ogni volta che ci andavo di nascosto qualche cosa dolce, non si potevano portare i zuccheri perché erano cose eccitanti e li portavo sempre di nascosto. E loro in cambio, cambio di sigarette, loro in cambio mi davano tantissimo, mi davano sorrisi, mi raccontavano delle cose, addirittura racconto questo, tanto ormai per arrestarmi dovranno venire in Italia a prendermi. Un certo punto che poi è partito da qua, da Torino, mi dovete fermare perché se no parlo solo io in questa conferenza. La fermerò e poi vedremo se ci sono delle domande. La chiudo brevemente, questa storia comunque da Torino è partito tantissimi anni fa, un concorso molto importante, adesso non mi ricordo esattamente chi l'aveva messo online, su delle mani. E io andai proprio nel manicome a fotografare le mani sul viso di questi mati, erano bellissime e avrei intitolato questa mostra una mente colorata e avrei lasciato le foto a colori, perché foto bianconi sono tante, sono belle, però a colori difficili, ma loro erano così belli. A colori una mostra che ho chiesto all'ospedale di aiutarmi a sostenere, nel senso di darmi l'approvazione di farla, non hanno voluto, anzi mi hanno messo in interdizione nel manicomio rumeno di quella città. E vabbè, ho fatto una mostra poi di nascosto, ecco, e l'ho presentata così. Va bene, io volevo, poi torniamo su queste cose, volevo intanto chiedere a Gaia come è andata questa esperienza, che immagino deve essere stata comunque molto difficile, molto intensa. Come hai lavorato questo ruolo? Allora, prima di tutto sono stata molto contenta che mi sia stato proposto questo lavoro perché mi ha dato la possibilità di toccare con mano un argomento molto delicato che mi ha sempre colpito molto. Questo ruolo è stato molto difficile e io quando ho letto la sceneggiatura ho pensato subito che sarebbe stato molto stimolante per me rappresentare un personaggio così lontano e che avrei dovuto studiare molto per raggiungere e per interpretarlo. infatti cos'è stato? Ho preparato questo ruolo con la coach Daniela Tosco con cui ho fatto un bel lavoro di preparazione, ci siamo ispirate ai studi delle tarantolate di De Martino e delle ragazze che tra gli anni 60 e 70 venivano considerate pazze quando erano solo affette da disagi personali come depressione, mestruazioni. Quindi è stata la mia prima fonte di sperazione. Oltre poi a tanti film ambientati nei manicomi e non, Ragazzi interrotte, Aula di Ignacio Tatà e Quadri e figli di Muccino è stato questo lavoro molto meticoloso. Lungo immagino? Sì, abbastanza. Soprattutto è stata una questione di equilibri. È un tema molto delicato quindi gli equilibri erano fondamentali in tutto. Samantha, generalmente le coproduzioni in degli esordi possono essere rischiosi. Che cos'è che vi ha convinto che questa cosa poteva funzionare? Buongiorno a tutti. Ecco, buongiorno, buongiorno. Allora, perché ci siamo convinti? Perché Catrinella ha, cioè una cosa era sicura di questo film, che il suo approccio era al 100% molto autentico perché è frutto di una sua esperienza vera, quindi di un suo vissuto. Quindi per lei era un film veramente necessario. Quindi a prescindere dalla bontà della sceneggiatura che c'era, però non era un racconto freddo, un racconto della mente. Era un racconto del cuore di Catrinella, dove si avvertiva e si capiva che lei sapeva di che cosa stava parlando. Quindi c'erano questi tre fattori molto importanti perché sì, la follia, il disagio, i bambini soprattutto, l'approccio con i bambini e comunque all'interno di questo contesto una storia d'amore, non un compito su questo. Quindi era molto palpitante come film e si sentiva che non c'era menzogna dentro e quindi ci ha convinto per questo. Ma infatti l'autenticità si sente tanto e immaginavo fosse questa la chiave. Io ho ancora un'infilata di domande, però vediamo se il pubblico ha qualche domanda da porvi. Buongiorno, Nicole Bianchi, Cinecittà News. Ho un paio di domande per la regista. Vorrei sapere come avete lavorato sull'espressività soprattutto dei bambini appunto perché sono molto realistici e insomma introiettare un tipo di dolore, di malattia del genere non è affatto facile. E poi volevo domandare il lavoro invece sulla figura di Monica Guerritore che era un medico progressista, lei dice espressamente nel film che avrebbe voluto chiudere i manicomi è una donna che fuma in mezzo a un consesso di uomini, quindi mi interessava capire questo. Grazie. Allora, grazie per la domanda, per le domande. Allora, lavorare con i bambini si sa che è molto difficile e specialmente nel nostro caso è stato difficile ma nello stesso tempo facile perché siamo accorti che eravamo soltanto delle macchine che dovevamo assecondarli perché loro ci dettavano i tempi e i ragazzi erano dei, qualcuno di loro al primo film qualcuno erano dei ragazzi che hanno fatto semplice figurazione perciò non erano dei attori però questa innocenza, diciamo, ce l'hanno trasmessa ma anche il fatto di raccontare cioè io avevo deciso, ecco, per non far diventare un documentario di tenerlo più leggero possibile e raccontare la storia dentro il padiglione del manicomio con dei bambini irrecuperabili e questo mi ha portato a lavorare, no? a raccontare delle patologie che in realtà non erano molto forti e anche loro non dovevano cioè erano più facili da lavorare con loro, ecco, gestirli e raccontarli come comportarsi che cosa portava le loro patologie. Poi siamo stati fortunati, c'è stato un momento di panico il primo giorno, a un certo punto noi eravamo all'ex ospedale Forlanini, sotto terra abbiamo costruito tutto quel set che avete visto, d'inverno molto freddo e il primo giorno c'è stato il panico perché dopo una giornata di riprese questi bambini con i piedi nudi hanno iniziato a piangere e chiedono ai genitori mamma portaci via, ho detto è finita, questo film muore qua nel primo giorno e invece sono tornati anche il secondo giorno e poi si è creata veramente una complicità e una cosa molto bella sul set tra tutti noi che è stato veramente difficile poi lasciarci e ogni giorno che ogni bambino finiva il film c'era un fiume di pianti da parte di tutti i reparti perché ti vedevi questi nanetti che arrivavano e piangevano e ti dicevano grazie per questa esperienza è stato veramente la parte più difficile forse del film con tutte le cose che ci ha portato questo film covid sul set, io che mi sono rotta la gamba e sono stata alla sedia a rotelle per due settimane e abbiamo fatto di tutto a non fermarci perché è un film comunque low budget e non potevamo fermarci, ecco e l'altra domanda, mi scusi, a Monica certo Monica, di fronte a Monica, l'ho detto anche ieri è ovvio che mi sentivo un po' insicura, ecco perché comunque un'attrice con la maiuscola io sono un'esordiente, sono un'allieva, sono una principiante però ero sicura su dove volevo parare, ecco e se è successo di scontrarmi con lei sul set non nego ma ascoltarti nel modo in quale lei mi proponeva delle altre alternative e non ero sicura che non era giusto quello che stava dicendo perciò abbiamo provato a fare quello che voleva lei e poi a indirizzarla su quello che volevo io poi alla fine abbiamo montato quello che volevo io però no, la cosa più bella è che l'altro giorno Monica non la vedo da un po' di tempo mi ha fatto una dedica online, sui social per me è stata una cosa molto importante ma poi mi ha lasciato questo messaggio vocale dove mi ringraziava per il ruolo poi ho detto da lei e poi per come ho portato questo film dall'inizio alla fine perché nessuno sapeva in realtà come sarebbe finito non era molto chiaro in sceneggiatura anche perché continuavo a cambiare il finale e avevo diversi messaggi che volevo dare e sì, è stata poi una sorpresa Gaia ancora non ha visto il film ma in realtà nessuno del cast ha visto il film ma anche il cast tecnico, nessuno sono i nostri coproduttori io ci ho lavorato per mesi a montaggio e perciò sarà una sorpresa per tutti loro sono curiosi del risultato e spero che a voi vi è piaciuto e che avete trovato dei diversi temi subliminali in questo film di epoca ma ha tantissimi temi attuali e bisogni su quali ci dobbiamo concentrare oggi l'attenzione verso chi ci sta accanto e l'amore che può essere una forma di uscita ma non... vediamo... abbiamo dei esempi che sono successi anche nelle settimane scorse l'amore è bello però dobbiamo anche saperlo coltivare dobbiamo ascoltare quello che ci sta accanto dare più attenzione anche a quelli che stanno intorno a noi non soltanto a noi stessi perché tendiamo di fare quello ma perché la società che ci sta... c'era un'altra domanda buongiorno Carlotta Pegolla Cinedams io volevo chiedere all'inizio del film c'è scritto che è ispirato a una storia vera e volevo sapere appunto quanto di vero ci fosse nel film e mi pare di aver letto che si è basata anche su un carteggio che ha trovato e se questo carteggio era anche stato magari distribuito nel lavoro di studio anche all'attrice e alle attrici per la realizzazione o se era servito soltanto per la sceneggiatura grazie grazie per la domanda allora sì come dicevo il tema diciamo che sicuramente si ispira a un tema personale a un racconto personale che è quello del mio familiare però quando poi ho deciso di portare la storia e girarla in Italia dovevo comunque documentarmi e andare a collocarlo in quello che c'è stato da voi il manicomio perché dal 78 non esistono più perciò ha portato anche a me a fare delle ricerche in queste ricerche una delle mie sceneggiatrici che era una studentessa del centro sperimentale è riuscita a procurarmi dei permessi speciali con quali abbiamo avuto accesso all'ex biblioteca dell'ex manicomio di Siena alla biblioteca della Santa Maria della Pietà dell'ex manicomio e in diversi in questa ricerca abbiamo trovato una lettera d'amore tra due ragazzine che risaliva al 1888 non potevamo fare un film in costume datato nel 1800 però ho trovato interessante collocarlo ecco come dicevo negli anni 60 perché mi permetteva di lavorare con dei bambini che era quello il mio desiderio e portare anche un po' di innocenza a malattia mentale portare queste due ragazzine questi due personaggi in quel collocamento là ecco che era più più facile lavorare ecco in quegli anni là buongiorno io sono Elena Bernardi sempre del Cine Dams volevo chiedere una cosa sentendola parlare non ho potuto non insomma non fare questo collegamento tra lei e la protagonista quindi che va inizio a lavorare in questo manicomio proprio per la sua gentilezza per i suoi approcci completamente diversi rispetto alle altre utilizzando pur semplicemente la gentilezza quindi una canzone piuttosto che una caramella una carezza e quindi insomma sentendola raccontare le sue esperienze anche in giovane età quanto c'è di lei in questo personaggio se c'è insomma se è presente e quanto può aver significato per lei grazie mille grazie beh ci sono tanti aspetti dalla storia delle due ragazze alla storia del manicomio senza entrare nei dettagli che rappresentano la mia vita e questa è la storia sono molto in difficoltà se farò un film non so se farò un secondo film domani su che tema andrò perché sento che ho dato tanto con questo non so se ne farò un secondo magari ritornerò al mio amore nell'ambito pubblicitario non lo so però sì mi rappresenta tantissimo ecco ci sono altre domande? io volevo fare un'ultima domanda poi dobbiamo chiudere sulla scrittura sulla sceneggiatura perché ho visto che lei si è accompagnata di una giovane e di un'esperta è stata una scelta pensata immagino certo allora è stato un lavoro sì a sei mani una revisione fatta dopo dopo il lavoro che avevo fatto con Francesca sentivamo che avevamo una scelgiatura bella ma non eravamo sicuri sicure se era giusta e se era giusta nel senso se aveva abbastanza forza ecco per poi essere girata e abbiamo deciso avevamo scelto tre scelingiatrici fortissime in Italia abbiamo deciso di andare da una donna proprio per avere una certa sensibilità e di queste tre quella che ci ha risposto più facile Heidrun Schleff era una delle nostre preferite devo dire che è stata una anche che ci hanno detto no ma Heidrun è molto tosta vedrai che non ti risponderà è stata prima che ci ha risposto e con quale mi sono trovata veramente bene abbiamo fatto un lavoro che poi è stato fatto soddisfatto e siamo ritornati anche a una sceneggiatura eravamo arrivati non so alla settima forse ottava sceneggiatura ma siamo ritornati sempre perché continuavo a aggiungere delle cose e ci siamo accorti che l'idea la prima forse era quella vincente e lei ha fatto una revisione poi sulla prima sceneggiatura che noi avevamo scritto ed è stato molto interessante avere anche l'approccio suo ecco va bene dobbiamo chiudere grazie tante per aver condiviso il suo lavoro con noi grazie sia a Gaia che a Samantha e buon festival grazie a tutti grazie